cari amici buonasera ben trovati eccoci nuovamente insieme oggi domenica 26 giugno 2022 per il consueto appuntamento relativo all'analisi dei mercati finanziari della settimana scorsa e di quello che sarà questa settimana entrante ebbene abbiamo vissuto dei periodi dopo settimane settimane di dichiarazioni molto forti da parte dei banchieri centrali specialmente quelli della federal reserve che hanno dichiarato di voler alzare ripetutamente i tassi addirittura per arrivare al 350 3 75 per cento per fine anno hanno mantenuto questo approccio nelle ultime settimane e dietro a loro sono andati anche se parzialmente i rappresentanti della bank of england nelle loro dichiarazioni e anche quelli della bce ebbene però nelle ultime settimane qualcosa sta cambiando e cosa sta cambiando la congiuntura macroeconomica perché i dati che stanno uscendo evidenziano un rallentamento macroeconomico rilevante e molto probabilmente conseguente al primo rialzo dei tassi che hanno prodotto le banche centrali ebbene la borsa ha festeggiato perché avete visto i principali listini azionari americani venerdì sera chiudere la settimana in maniera abbastanza significativa con un'euforia che non si vedeva da qualche giorno erano tre settimane di discesa che vedevamo sui listini improvvisamente una settimana di correzione dovuta a questa diciamo chiamiamola euforia anche se di euforia non si può parlare perché perché sostanzialmente i mercati stanno festeggiando l'arrivo della recessione e questo sembra il paradosso dei nostri tempi una recessione che potrebbe rallentare la corsa delle banche centrali sui tassi e quindi le borse stanno diciamo prefigurando un rallentamento nel rialzo dei tassi da parte delle banche centrali non sappiamo se sarà così noi crediamo di no e l'abbiamo ripetuto più volte anche in questi durante questi nostri incontri cioè le banche centrali in questo momento a nostro avviso non hanno interesse di voler provocare una recessione nel senso che anche se la provocano a loro va bene alzare i tassi perché perché successivamente quando dovessimo vivere questi momenti di recessione che sia uno soft lending o che sia un hard lending questo non importa le banche centrali avranno nuovamente gli strumenti e non saranno impotenti e avranno nuovamente gli strumenti per poter agire sulla politica monetaria cioè riabbasseranno i tassi e per fare questo chiaramente devono alzarli ora pur accettando eventualmente ed evidentemente anche la possibilità di una stagflazione e di una recessione nel proprio paese quindi questa è la contraddizione di questo periodo che stiamo vivendo e da questo punto di vista dobbiamo segnalare che però il rallentamento macroeconomico potrebbe cambiare qualche situazione soprattutto in europa in europa la garda ha dichiarato che prossimamente tra luglio settembre ottobre ci saranno uno due forse tre rialzi dei tassi del 25 basis point però a questo punto ne crediamo che a luglio dopo i dati che sono usciti potrebbe anche stare ferma la bce e sarebbe veramente un problema sarebbe sicuramente pericoloso che arrivassimo a settembre ottobre in autunno quando probabilmente un po la questione legata all'energia quindi all'approvvigionamento energetico che fatica ad essere quello diciamo che avevamo fino a un certo periodo nel 2021 nel 2022 le questioni legate alla guerra alle strozzature dell'offerta molto probabilmente potrebbero portare già l'europa in recessione nel prossimo autunno e se la banca centrale avrà ancora i tassi negativi beh la questione diventa veramente pericolosa perché la bce potrebbe non avere tutti gli strumenti a sua disposizione per poter agire con la politica monetaria e sui tassi in modo da riproporre eventualmente una come dire un quantitative easing per poter allargare di nuovo i cordoni della borsa e ridare fiato alle economie che in questo momento dimostrano di soffrire negli stati uniti della questione è differente nonostante i dati rallentamento sembra che powell e anche altri rappresentanti della fed nonostante abbiano dichiarato che c'è la possibilità di una recessione da un punto di vista teorico hanno dichiarato che comunque andanno avanti con la loro con tenacia nella loro politica di rialzo del costo del denaro e questo potrebbe nuovamente deprimere i mercati azionari prossimamente dalla gran bretagna invece sono uscite le dichiarazioni abbastanza particolari di mann che è un rappresentante del bank of england il quale ha dichiarato che le decisioni e la politica monetaria statunitense è inflattiva per la gran bretagna cosa vuol dire questo vuol dire che un rialzo dei tassi prolungato negli stati uniti indebolisce la sterlina contro dollaro e l'indebolimento della sterlina contro dollaro causa l'importazione di inflazione e per questa ragione la bank of england dice noi se vogliamo evitare che la svalutazione del tasso di cambio vada a inficiare il rialzo dei tassi dobbiamo seguire il rialzo dei tassi americano e questo è quello che molto probabilmente la bank of england farà nelle settimane a venire ma andiamo a vedere quelli che sono i tassi di cambio più importanti e soprattutto ripartiamo però questa volta dai mercati azionari perché in questi momenti i mercati azionari rappresentano secondo noi la chiave per capire quella che è la correlazione tra l'altro la correlazione sta cambiando perché ricorderete quando i mercati azionari salivano il dollaro saliva in maniera altrettanto vigorosa durante la settimana abbiamo visto soprattutto alla fine con i dati dell'università del michigan che sono risultati estremamente inferiore alle attese addirittura il sentimento futuro dei consumatori è visto a 47 e mezzo quindi già in zona recessione abbiamo visto appunto che con le borse che hanno recuperato terreno il dollaro è improvvisamente acceduto terreno quindi la correlazione sembra cambiare questo è l'aspetto più importante che stiamo notando in queste ultime ore e andiamo a vedere questo è il Dow Jones che ha recuperato terreno non sappiamo se ci sarà la benzina per poter risalire costantemente nelle prossime settimane certamente questa è una correzione vedremo quelle che saranno le indicazioni del mercato nelle prossime settimane certamente abbiamo delle resistenze al di sopra dei livelli attuali che sono molto forti e sono questi punti statici questi minimi a 32.250 e soprattutto quelli a 33.470 lo vedremo certamente non soltanto il Dow Jones sta tirando ma anche il Nasdaq che ha recuperato terreno come potete vedere i grafici sono quasi uguali la stessa cosa per l'S&P abbiamo delle resistenze importanti nelle vicinanze vedremo se il mercato andrà a violare queste resistenze quindi tornerà il sereno sui mercati oppure se come pensiamo noi la Federal Reserve proseguirà nel suo intento di alzare il corso del denaro a scapito anche di un'eventuale recessione futura e il mercato azionario questo non dovrebbe prenderlo bene nel medio termine però nel brevissimo termine questa correzione sembrava dovuta. Andiamo a vedere i tassi di cambio con l'euro dollaro in modo particolare che ha risalito un po' la corrente solo che evidentemente deve rompere l'area di 1.0630 ma soprattutto 1.0780 per poter cambiare il trend in questo momento il mercato è chiaramente in sello rally naturale cioè il delta tasso pesa sull'euro e permette al dollaro di avere un cuscinetto che è poi quel cuscinetto legato al delta tasso che impedisce sostanzialmente al dollaro per il momento di crollare. Lo vedremo nel medio termine vedremo quelle che saranno le reazioni. Andiamo a vedere sterlina dollaro che in questo periodo ha vissuto la stessa condizione di debolezza estrema con un minimo inferiore per ora abbiamo testato queste aree 1.2320 il mercato non le ha rotte potremmo tornare sotto nella settimana entrante però bisogna vedere chi sarà il leader del mercato se saranno le borse in questo caso come noi pensiamo e se la correlazione è cambiata vedrà un dollaro cedere terreno di fronte a dei mercati azionari che potrebbero risalire la corrente. Rimane solido invece il dollaro yen e sappiamo anche le ragioni. Noi tutti sappiamo che il dollaro yen continua ad essere la valuta diciamo che ha il trend più significativo con un mercato che aveva addirittura rotto 136,60 dopo aver rotto il livello chiave 135,60 ma ha corretto qualcosa e ora ci aspettiamo ancora fino a che non si creeranno le condizioni per divergenze o massimi inferiori il mercato dovrebbe essere ancora buy on dips. Da un punto di vista tecnico nel lungo periodo noi possiamo addirittura vedere i livelli che potrebbero andare intorno ai livelli che vedemmo nel 1998 durante la crisi russa l'abbiamo detto più volte quel 147,80 che sembrerebbe anche non così lontano lo vedremo nelle prossime giornate nei prossime settimane soprattutto sulle dichiarazioni della banca centrale giapponese perché non dimentichiamolo l'inflazione in Giappone è al 2,5% è rimasta tale anche nell'ultima rilevazione mentre il mese precedente era salita di quasi l'1,6% rispetto al mese ancora che veniva precedentemente e fino a che non vedremo l'inflazione salire almeno di sopra del 3,5-4% dubitiamo che la Bank of Japan possa decidere la sospensione degli acquisti di titoli di stato per mantenere i rendimenti sotto lo 0,25% quindi rimane un trend molto forte che è accompagnato da che cosa? Da un petrolio che rimane se guardiamo il prezzo spot assolutamente in una fase di correzione ribassista ma che sembra terminata in area 101-102 per il momento siamo ancora in una correzione di questo onda ribassista non ci sono ancora le condizioni per andare sotto 92 secondo noi da un punto di vista macro perché la rottura di 92-80 sarebbe prodromica a nostro avviso per un ritorno addirittura in area 65 nel medio e lungo periodo ma perché ciò avvenga devono cambiare le condizioni macro assolutamente deve calare la domanda in maniera sensibile e a quel punto l'offerta andrà ad adeguarsi a un livello inferiore di prezzo e molto probabilmente a quel punto potremmo vedere la fine di questo periodo di grandissima inflazione a rialzo però non è ancora il momento bisogna vedere tecnicamente se saremo capaci di romper 120-70 nel caso di una rottura di questo livello potremmo andare ad attaccare nuovi massimi altrimenti siamo all'interno di questo box che secondo noi è per il momento compreso tra 108 e 92 sotto e tra 108 e 120 sopra. Tra le altre valute potremmo guardare il dollaro canada che ovviamente è legato al prezzo del petrolio abbiamo visto un bellissimo doppio massimo a 1,30 e 70 questa settimana potrebbe essere se il petrolio dovesse cominciare a salire un buon motivo per vendere nuovamente il dollaro canada e tornare magari in area 1,27 e 1,27 e mezzo. Siamo comunque all'interno di una fase laterale a minimi crescenti che dovrebbe diciamo mantenere una certa stabilità nel breve e nel medio periodo. Rimanete con noi perché la settimana è importantissima ci sono dati significativi sia dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa continuiamo a vedere queste price action anche se siamo nel mese di luglio c'è una buonissima volatilità per poter operare e questo rende il mercato estremamente interessante estremamente affascinante. Mettete un like sulla pagina degli amici di ActiveTrades e vi aspetto domenica prossima per il nuovo appuntamento consueto con il mercato dei cambi e i mercati finanziari. Arrivederci e buon tre video.